Buongiorno e benvenuti nel canale Officine Varisco. Abbiamo realizzato una serie di video che abbiamo chiamato Laboratorio. Buona visione! Questo video Laboratorio parlerà degli anodi al magnesio per la protezione cattolica. Gli anodi in barre di magnesio sono particolarmente indicati per la protezione interna degli scaldacqua. All'interno dell'anodo viene inserita un'anima di sostegno in acciaio. Questa può essere saldata al tappo, come vedete nel campione, oppure avvitata. Ogni anodo è fornito di una guarnizione di tenuta, che può essere del tipo classico, e con una guarnizione di nuova generazione, direttamente con un disco inserito nella filettatura del tappo dell'anodo stesso. Gli anodi del magnesio si sciolgono nel corso del tempo, per produrre corrente di soccorso, ed anche per corrosione propria. Si pone quindi il problema del controllo di questo consumo. Vediamo come. Nel caso dell'anodo col tappo saldato, dovremo svuotare lo scaldacqua, sfilare l'anodo e verificare visivamente lo stato di consumo. Con il tappo avvitato, l'operazione non cambia. Cambia con il tappo isolato. Questo sistema che vedete isola l'anodo dal serbatoio, e rende possibile il controllo del suo consumo attraverso il cavo di massa che lo collega al serbatoio. Si staccherà il cavo dal serbatoio, e con un tester si misurerà il differenziale tra la corrente dell'anodo e lo scaldacqua. Ancora più semplicemente, si potrà utilizzare questo semplice strumento. È un piccolo apparecchio, un mini voltmetro, che misurerà in modo permanente lo stato dell'anodo. Il cavetto andrà collegato allo strumento e un altro cavo collegato al serbatoio. Basterà controllare senza operazioni particolari che l'indicatore che andrete ad azionare rimanga sulla parte verde. Comunque è consigliabile almeno il primo anno di controllo visivo per non ritrovarvi in questa situazione, in questa situazione, o peggio ancora, in questa situazione. A questo punto sarà il bollitore ad avvertirvi che l'anodo è consumato, in questa maniera. Bene, se avete trovato interessante questo videolaboratorio, mettete mi piace, azionate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, venite a visitarci sul sito, scaricate i nostri cataloghi. Grazie di tutto, arrivederci a presto.